faccio il video tanto lo devo fare pure io e dopo faccio io il portale si però il portale mi raccomando metti in voto del portiere bravo una bella partita 4 a 3 ben giocata linea perfetta allora non so se mi capisci perdere così non mi pesa perché la partita è stata perfetta questo sembra l'offline non ha dato neanche uno strappo no no è quello che dico perdere così è giusto l'azione ci stanno tra uno te l'ho detto pure io l'altra volta stava laggando cioè a me mi dispiace poi dopo essere antipatico tipo diventano magari cioè risultato antipatico perché dico però mi prende l'embolo perché dico cazzo a giocare non è che sto impedito cioè un minimo riesco a farlo scusa ma avessi in questa situazione il mio portiere c'ha 5 e più 5 e mezzo il mio prende 6 perché ho vinto o il tuo prende 4 no il tuo prende 6 ma pure il mio prende 6 il tuo prende 7 ma il mio prende 6 il mio prende 6 e il tuo prende 6 ok il tuo prende 1 voto in più rispetto al mio però sta cosa dalla prossima la smetto di fa fa perché c'è tipo basta inserire 5 e mezzo e lui ti calcola il 5 cioè se tipo a me ha preso 5 e mezzo ti calcola il 5 però siccome ho detto sta cosa a tutti cioè facciamola così fino in fondo e poi dopo la cambiamo aspetta che esco e rientro io ehi sto ancora al 73 sino al gol di affanculo il quarto gol di werner tripoletta di werner mi pare che chi poteva di pernato del gol di a parte c'era il giusto risultato perché pare che non c'è un euro che possesso parla no insomma insomma forse il pareggio era più giusto perché lì si è sbagliato quel gol se mi facevi il quattro a due lì era finita lascia sta lascia sta se mi facevi trovare finita werner salva l'internazionale milano l'animal satia